Ciao, oggi vediamo insieme le scale di sol minore, naturale, armonica e melodica. Ricorda, ogni scala minore si divide in naturale, armonica e melodica. La scala minore naturale utilizza semplicemente il numero di bemolle o diesis indicati dopo la chiave di violino. Quindi, nel caso di sol, avrai il si bemolle e il mi bemolle in chiave. Per la corda sol, la seconda applicazione e per la corda re, la quinta applicazione. La scala minore La scala minore armonica, rispetto alla scala minore naturale, aggiunge un diesis. Nel caso di sol, avremo il fa diesis. Ricorda, per la scala armonica, fai sentire il tono e mezzo, distanziando bene il primo e il secondo dito. La scala minore è la scala minore melodica. Allora, alziamo la sesta e la settima nota di un semitono. Dovremo quindi suonare mi naturale e fa diesis sulla corda re. La scala minore è la scala minore. 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 Grazie a tutti.